Raviolo ripieno di crescenza agli agrumi, un piatto bello, originale, atto a risvegliare i sensi. Per la pasta abbiamo utilizzato 700 g di farina di semola, 300 g di farina 00, 400 g di albume, un tuorlo d'uovo. Per l'interno abbiamo preso 200 g di certosa, 50 cl di panna fresca, 4 fogli di gelatina di pesce e la scorza di un'arancia. Per il condimento abbiamo usato un alice sott'olio, dei pomodorini, una zucchina, la bottarga di mugine, olio, sale e pepe. Vi faccio immediatamente vedere come funziona l'impasto per la pasta, è semplicissimo. Basterà inserire le due farine contemporaneamente e poi versare il bianco d'uovo, anche tutto in una volta. Se avete una planetaria, lavorate in planetaria. Lavorate l'impasto a lungo fin quando non otterrete una palla di consistenza omogenea. Trasferite l'impasto dalla boule sul tavolo. La pasta comincia a prendere forma, questo è più o meno il risultato. Ovviamente come tutti gli impasti deve riposare. Sempre pellicola, se no si asciuga e abbiamo rovinato tutto. Questa è la nostra crescenza. Io voglio che diventi l'interno del nostro raviolo. Per questo motivo io la aiuto con la gelatina. Qua abbiamo la gelatina, la strizziamo. Strizzatela per bene e poi nel pentolino. Qualche istante, ecco qua che si va sciogliendo. Ecco fatto. La gelatina si è sciolta. Possiamo andarla ad introdurre nel nostro bicchiere. Frulliamo tutto. Dovete frullare per bene. I due composti si devono unire. Il consiglio che vi do è quello di far rassodare la gelatina tutta la notte. Eccola qua. Il nostro mattoncino. Semplicissimo da preparare. Abbiamo il parmigiano e la buccia di arancia. Tagliate un pezzo di ripieno e rotolatelo all'interno del parmigiano. In maniera tale che sia totalmente piena di questi trucioli di parmigiano. A questo punto, ecco qua la nostra sfoglia. Sistemo i bordi. Distribuite a una distanza ben precisa il nostro ripieno. E poi, con molta semplicità, ripiegate. Fatela aderire ben bene. Fate attenzione a fare uscire l'aria. Che se no, in cottura, andrebbe a forare il nostro tortello. Mi sono procurata dei coppapasta. E vado a tagliarli della misura che mi interessa. Ed ecco fatto. Passiamo al condimento. Mi procuro un aglio. E lo metto in padella. Non lo taglio perché poi lo voglio togliere. Mi preparo già subito l'alicetta. Ne basta una per il nostro quantitativo. Piano piano il calore la scioglierà. Abbiamo dei pomodorini. Tagliamo in due e poi in quattro. Con la zucchina facciamo questo lavoro. Ne taglio un pezzo. E mi ricavo la parte della buccia. La parte della polpa non la usiamo. Così può andare. L'alice si va sciogliendo. Ha insaporito tutto il nostro olio. Possiamo aggiungere i pomodori. La cottura dei ravioli sarà velocissima. Difatti per prima cosa introduco le zucchine che voglio sbollentare velocemente. Fiamma bassa e andate dentro. Delicatamente. Saranno pronti in pochissimo. Basta che salgano subito a galla. Li tiro subito fuori. E senza scolarli troppo, li metto in padella. Li lasciamo andare proprio qualche istante. Vogliamo tirar fuori un po' di cremina. Andiamo a finire il tutto con la bottarga. La bottarga sono uova di pesce essiccate. E io vado direttamente come se fosse del formaggio. Lo metto sopra. Ed è perfetto. Andiamo ad impiattare. Beh, il nostro piatto è pronto. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar我! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! O flankito è loann apocalypse l' Science page di Bambinirul Estrato l' Stephan Elicimitutto sta suddenly nel principiam Pun appetito!